e benvenuti ragazzi nel mio primo video di minecraft io mi chiamo marchi max perché mi vuole seguire appena arriveremo ai 30 iscritti farò un video con i miei amici poi voi scrivetemi giù nei commenti quanti iscritti vogliamo arrivare non superate 55 cioè non superate 50 perché questo qui mondo fa schifo mondo di mia sorella what cosa sta succedendo non lo so nemmeno io è cresciato il mondo perfetto aspetta non è cresciato niente siamo una domanda senza città come vedete mettiamo soltanto le coordinate adesso ci facciamo soltanto la casa e magari in sedia la miniera questo video lo facciamo durare non non più di un quarto d'ora dire sono in una foresta posto peggiore di questo non potrei chiedere però vabbè arrangiamo ma non lascio allora mi vorrei dire che mi devo fare una casa di legno di betulla vabbè ho trovato sono nato in una foresta di betulla la betulla è anche la marella preferita quindi vabbè nel mondo mio di mio cugino che però è un mondo privato quello non lo farò vedere sul mio canale e se mi volete mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi perché come ho detto prima appena arriveremo cioè voi mi scriverete nei commenti e il numero che noi dovremmo arrivare e nel prossimo video e basta che scrivete una barzelletta qui sotto e nel prossimo video saluterò le persone che saranno state più brave e dirò che è stato chi sarà stato il vincitore nel prossimo video basta che scrivete una barzelletta sotto nei commenti ovviamente se io sono minorenne quindi non ho ancora facebook cioè se andate su facebook e instagram non mi troverete perché non ho un profilo instagram e facebook quindi se mi volete cercare è tempo perso io mi chiamo marchi max se vi volete scrivere direi di farmela questa pianura qua abbiamo anche vicino il laghetto ok però anche vicino il laghetto con la pozzetta con due pozzetta con due pozzetta acqua direi di fare proprio qui ma bene e cominciamo a trasformare le assi di legno allora facciamo un 4x4 incominciamo con un magari 4x4 si deve bene quanto fa l'ignorante non lo so 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 adesso facendo un casino facciamoci un attimo la graffite per favore poi ci lascia di scanturo spacchiamo tutto sto coso che ho fatto non so nemmeno perché sembra biancaneve nei boschi i nove nani non mi ricordo quanti sono l'ho letto quando avevo quanti anni avevo quando l'ho letto comunque era piccolo io adesso faccio il tetto a capanna non so perché mi piace il tetto a capanna alla porta la faremo qua 1 2 1 2 2 qua ci mettiamo la graffite e aspetta un attimo voglio fare anche la vanga perché c'è cio cio erba adesso facciamo anche il pavimento di c'è ovviamente il legno anche sotto quelle porte nel mondo mio cugino non lo farò pubblico come ci ha detto lì abbiamo delle cose abbastanza belle però abbiamo incominciato qualche anno fa c'è la stiamo proseguendo da un anno andare a prendere la betulla perché abbiamo incominciato con la betulla e finiremo con la betulla adesso questa qui è la è la è il mio primo mondo poi quando finirò qui farò anche un altro mondo cioè questa qui è la prima stagione poi farò anche la seconda stagione magari anche la terza poi vedremo adesso prendiamo il legno fin quando non si rompe l'ascia perché sennò non sono felice voglio essere un bimbo felice quindi non spaccheremo fin quando non si rompe l'ascia sennò sono un bimbo triste e anche un bimbo scemo la faccia come la faccio vedere perché sono minoren adesso vedremo se in questo episodio faremo la miniera vedremo la mia casa non so non so non vedevo più la mia casa what dopo tutto in questo episodio potremmo anche trovare i slimebok cioè i mob perché è un albero di betulla non lo so forse quando ho spaccato gli albi non forse ovviamente allora le porte però di betulla non è che sono la bellezza cioè solo che non dico che sono brutto però oh mio dio non dico che sono brutto però nemmeno troppo bella la moglie è un giorno quindi potrei fare un po' più bella io non ho ancora potuto aggiornare perché purtroppo sono stato occupato ecco adesso adesso direi di farlo vedere ma vediamo però prima queste le faccio cioè ormai non ho più sono bimbo triste cioè perché non ho finito l'ascia anche perché mi scuccio di finire l'ascia e quindi sono anche un bimbo scemo allora 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 come ci sono state piccole ecco ok ecco ecco perché non ho fatto spaccata non lo so va bene lasciamo le domande cioè non facciamoci domande e scendiamo verso la maniera sono a livello 59 facciamo la scala così facciamo la scala a chiocciola dovrei trovare del carbone gentilmente gentilmente ho bisogno di carbone siamo a livello 53 questo è carbone? no è giunto non ci vedo più niente dove solo non si vede più what? ah ok è quasi sta crashando tutto il gioco però non fa niente allora da qui fa schifo vedere di così quindi dopo ci metterò delle botte vabbè facciamole ora le botte perché mi do fastidio così bottele grazie siete gentilissimi siete davvero molto gentili per le bottele grazie anche le bottele sono abbastanza bruttine come le port port bottele cioè sono praticamente la stessa cosa prendiamo ricordiamoci sempre di chiuderla 1 2 2 2 3 3 Terra, what? Terra, ok non so perchè sto trovando della terra e sinceramente non lo voglio nemmeno sapere, mi sto trovando di tutto e di più, ho trovato addirittura della terra ma non riesco a trovare il carbone, sono arrivato al livello 42 dobbiamo arrivare al livello 11 arriviamo al livello 11 e poi dal livello 11 iniziamo a fare un turno si è rotto il piccolo che bello, dopo un attimo dobbiamo fare la gioca di risalire subito e farci un altro piccolo ovviamente questa volta non di, grazie non di legno ma lo faremo di pietra perchè adesso abbiamo racconto la pietra non so perchè si stanno andando le scale all'incontrare e anche notte che bellezza è notto o mi sbaglio? si è notto buongiorgio allora andiamo a farci un altro piccolo carbo carbo dimmi che carbo non è carbo quanto tempo ci vuole per trovare del semplice carbone? beh vabbè tra poco tra un pochi minuti tra 5-10 minuti interromperò il video e continueremo nel secondo video che farò in questi giorni non c'è non dopo il martedì massimo lo facciamo per martedì il secondo video e mi raccomando iscrivetevi questo al mio canale terra ovviamente perchè se non trovo la terra ovviamente la mojanger non è felice questa è la fece che si granita puro granito livello 20 scendi 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 vabbè io perchè ho spaccato direi di salire adesso andiamo ad uccidere adesso andiamo ad uccidere qualche pecora per farci il letto e tra pochi minuti tra massimo 5 minuti chiuderò il video e cioè non è che chiudere il canale finirò il primo video e continueremo tra 2 minuti tra massimo 5 minuti ma penso 2 chiuderemo il video cioè non il canale il video e continueremo cioè il secondo video perchè perchè ah pensavo che non c'erano più le bozze aspetta prima mi devo fare le non troppo ancora del carbone questi per fare la spada per andare ad uccidere le pecore che mi servivano per fare il letto anche se è notte sai quanto me ne frega niente quindi pecorine per favore vi fate avanti non vi voglio fare niente non vi voglio fare davvero niente per favore non ve la prendete con me io sono un semplice tizio che sto passando che questa no ho detto non ve la prendete con me io sono un semplicissimo tizio io sono un semplicissimo tizio aiuto 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 come ce ne credi qua che magari sono meno mob ho parlato appena trovo i mob prendo e me ne scappo ho anche finito devo di che animali animali ho bisogno di animali per magari spavarmi un po' vabbè allora adesso vado a casa e letto penso che ci lo faremo nel prossimo episodio non posso nemmeno correre perché tengo check shot mettiamo a casa chiudiamo e salva ed esci